Il Comitato Regionale per le Comunicazioni si conferma uno strumento fondamentale per la risoluzione delle controverse. Ne parliamo con Alessandro De Cillis, Presidente del Corecom. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Per il 2018 presentiamo numeri che non esitiamo a definire straordinari, ha spiegato lei. Sono aumentate le richieste di conciliazione, secondo i dati, molte le risoluzioni tra utenti e compagnia telefonica, ad esempio. È stato un cambiamento epocale, come se fossimo passati dall'analogico al digitale. Nel 2017 abbiamo raccolto oltre 6.000 istanze di conciliazione. A luglio del 2018 è arrivato un nuovo concilia web, uno strumento nazionale che pone il Corecom ai vertici dei sistemi di mediazione e ha consentito di avere un incremento che si può contare con 200 richieste di conciliazione a settimana. Abbiamo raggiunto quindi un valore totale di 8.000 richieste di conciliazione. Ecco, per entrare più nel dettaglio, con questa piattaforma appunto web, c'è stato un ulteriore incremento delle richieste di conciliazione. L'incremento di conciliazione ha due aspetti. Uno, dal punto di vista dell'assistenza all'utenza, quindi di offrire un servizio tecnologico molto avanzato. D'altro canto, dobbiamo sempre tenere presente che è anche possibile che gli utenti abbiano più necessità di rivolgersi al Corecom per la mediazione, perché magari hanno più problemi nei confronti delle compagnie di comunicazione. Ecco, dicevamo, tra utenti e compagnie telefoniche è anche importante questo aspetto, no? Assolutamente sì. Oramai teniamo presente che il servizio di telefonia è un servizio indispensabile che ricopre tutte le fasce d'età, dai più giovani ai più anziani. Il Corecom è a tutela anche delle fasce deboli. Cyberbullismo e anche fake news, altri temi importanti che voi curate. Sono due aspetti fondamentali di cui l'Agicom e i Corecom si stanno occupando. Il Corecom Piemonte si è visto al centro della nuova normativa regionale, una legge che ci pone al coordinamento del tavolo del cyberbullismo e a breve avremo ulteriori novità da presentare, sempre a tutela dei minori online. Fake news anche importanti. Fake news importantissime. I primi a subire le fake news sono chiaramente i lettori poco accorti. Noi dobbiamo valorizzare l'informazione di qualità e quindi il Corecom anche a tutela dei minori e delle fasce deboli anche su questo aspetto. Bene, grazie ad Alessandro De Cilis, grazie per essere stato con noi. Proseguiamo con il nostro telegiornale. I lavoratori non fanno di professione.